Ciao a tutti, bentornati su Battle Spirit Central. Oggi siamo qui con un altro gameplay, abbiamo provato a cambiare un pochino la grafica. Abbiamo sulla sinistra Luca, non io, con verde e blu, Kale. E sulla destra io con un viola puro che praticamente è una rivisitazione modernizzata del mio purple midrange, chiamiamolo così. Vediamo che lui parte con labirinto. Ci sarà molta lettura a carte durante questo episodio perché è la prima volta che giocavamo questo nuovo mazzo, quindi ogni volta prendere in mano le carte, rileggerele, eccetera, eccetera. Infatti magari qualche giocata non sarà ottimale, però insomma... Mostra un pochino cosa questo nuovo mazzo può fare e può fare molto bene. Dunque, come abbiamo visto, io sono partito forte attaccando col mio aglovel, mettendogli un pochino di pressione. Lui è partito con labirinto e poi con il suo deepwalker, con cui rampa, posso dire abbastanza sculato perché non ne gioca tantissime di quelle carte lì, e pescare labirinto insieme a deepwalker è stata abbastanza una fortuna. Oltretutto labirinto non ritengo sia molto ottimale in questo mazzo, però lo stavamo provando. Onestamente si può giocare anche senza, anzi forse la miglior versione senza, a meno che non peschi due deepwalker che ti fanno rampare come non so cosa. Maledetto. Io caccio giù un altro aglovel, continuo ad attaccare, lui in questo momento è a tre vite, oltretutto le vite le ha sistemate lui mentre mi guardava, mentre mi sistemava il video. Quindi non devo più starci dietro io e riesco a commentare forse un pochino meglio, si spera. Dunque, lui è a tre vite, io ho ancora tutte cinque, vediamo una nuova carta, il buon Izzot, che con Chain Blue permette di trasformare un Nexus in Spirit fino alla fine del turno quando io attacco, io l'ho attaccato con l'Astral Viola, lui in Flash l'ha evocato, ha rampato, ha fatto diventare il Nexus Spirit ma comunque non poteva bloccare, infatti è giù soltanto a due vite, partita match-up e partita che viene molto carriato da l'Astral Viola, assolutamente, perché lui non ha praticamente modo per sistemarla a meno che non peschi una floodstream. Va di Sanche Ruins, con cui scarta un Beldegore, quindi tanta roba, e cala, cala Winkel, una delle carte più forti nuove che sono uscite, mettete in pausa il video se volete leggere gli effetti, comunque ovviamente a Gale, dopodiché impegno un Nexus rampa e se impegno un Nexus spacca un 4- se non sbaglio, a sto giro ho fatto i compiti, ho studiato. Infatti carta fastidiosissimo contro il mio mazzo perché gioco un sacco di 4-, mi spacca l'Uglo Vale con il quale non pesco e mi togli una vita. Durante il mio turno calo doppio Shasnake in modo da poter pescare e continuare a rifillarmi la mano perché so che lui potenzialmente può benissimo distruggermi quasi tutta la board. attacco un che attacca, lui fa Ice e rimane a due vite senza problemi. Ora lui sta stabilizzando, qua va di Shocking Vegetation, lui qua va di Shocking Vegetation, dopodiché attacca. Ha attivato anche l'effetto di Sunken Ruins, direi, per far diventare il suo labirinto uno Spirit. Prova di mettermi un pochino di pressione, mi fa calare a tre vite. Io parto con una Dragonaga per farmi un po' di carta in mano perché secondo me stavo iniziando ad esaurire le risorse difensive. In questo caso qua una Double Deadly, eccola, farebbe malissimo volevo dire. Infatti ecco qua la Double Deadly con cui mi spacco il mio Shasnake per pescare un'ulteriore carta. Vediamo se lo faccio, sì lo faccio. Dopodiché attivo l'effetto del santuario. Lui fa Beldegor e io gli vado a proccare l'ice con Nukataka. Situazione difficilotta perché comunque io non ho board. Lui mi ha fatto completamente la board. Fortunatamente non ha visto delle floodstream o carte del genere per cui il mio astral rimane in campo ma qua diventa quasi una battaglia di ice e chi ne ha di più. E il fatto di avergli messo pressione in early game qua potrebbe essere stato fondamentale. Infatti lui attiva l'effetto di Sunken Ruins per far diventare il suo Nexus uno Spirit. Io vado di ice e si torna da capo. Qui diventa un po' di, non si può dire, back and forth. In cui chi ha più ice vince diciamo. Perché io ho degli imbloccabili, lui ha più carte di me. Io qua calo un altro astral. Che ho più carte di me e si va semplicemente avanti così. Un peccato che non abbia modi di avere a che fare con il mio astral. Ma diciamo che è l'unica cosa che mi ha permesso di vincere questa partita. Lui sette una carta, io sette anch'io. Dopo addirittura Starblast era. Pensavo fosse un altro ice. Quindi questo mi ha spaventato molto perché potenzialmente gli poteva permettere di vedere ulteriori out o modi per terminare il turno. Io qua avevo finito gli ice, volevo dire prima. E speravo che anche lui li avesse finiti. Quindi fortunatamente vinco. E lui non ha pescato nessun out per i miei astral. Ma abbiamo visto che è veramente tosta per Viola. Star dietro a questo mazzo. Specie se inizia ad andare. Poi magari la partenza è un po' lenta e Viola riesce a prendere un pochino di vantaggio all'inizio. E lo tiene sempre alle strette. Però se inizia un po' a rampare, a farti la board con carte, anche che non costano tantissimo come Cala Vinkel. Per Viola diventa tosta. Infatti penso che Viola un pochino si dovrà evolvere dal purple agro classico che continuerà probabilmente a far bene. Serpent. Perché Mediuca è una carta fortissima. Qua intanto io parto con Aglevele esattamente come prima. Lui parta con Pollon. E stavo dicendo sì, bellissime queste millate fino a un certo punto. Perché è simila degli spirit chiave. Vediamo che gioca anche Uga. Non mi ricordo il nome. Penguang. Infatti la versione diciamo che non era ottimalissima e forse una versione più ottimale mi avrebbe anche fatto un po' il culo diciamo. Lui addirittura torna subito a due vite qua con la pressione che gli metto. E sì, stavo dicendo che Viola ci dovrà un pochino adattare. E forse la versione Eva potrebbe trovare molto più gioco di prima. Specie perché comunque a meno che non ci sia una ballist gioca abbastanza bene anche dentro Ira. Poi è meno aggressiva e tutto ma con un po' un mix si può fare qualcosa. Un purple un pochino più control in alternativa al Serpent. Lui qua riesce già a calare Calavinkle. E inizia anche a rampare grazie alla sua Islands. Infatti inizia a spaccare i miei spirit. Io qua vado a quattro vite. Lui ne ha due però la situazione a questo giro è veramente abbastanza tragica. Lui qua va di Floodstream addirittura. Io vado con Liffle perché voglio fargli più danni possibile. E faccio Double Deadly per togliere il Calavinkle. Ma mi trovo comunque in una situazione brutta. Perché per quanto sia in vantaggio di vite. E lui è abbastanza le strette. Non ho assolutamente borde. Non ho una minima riduzione. Lui ha un sacco di core. Vedete che in mano ho un po' di carte. Comunque una Deadly Balance che può fare male. Una Core Teft che può dar fastidio. Ma Core Teft ti fa andare sottissimo di carte. E io non ho quel vantaggio che mi permetterebbe di usarla. Altra Pollon. In cui scarta un altro Ice mi pare. Bellissimo. Godo. Ma la mia situazione è abbastanza tragica. Vado sotto a due vite anch'io. Pollon refresh e mi milla. E vediamo come posso rispondere. Vado con uno Shasnake. E Dragonaga. Sempre ottima questa accoppiata di carte. Specie perché Dragonaga ti fa pescare ulteriormente. Pesco una carta per Dragonaga quando attacca. E lui qua mi fa una Flow Stream che fa un male cane. Ecco vedete la Flow Stream che non ha visto le scorse partite. La scorsa partita. Io rispondo con Core Teft. Visto che lui ha tolto un po' di nuclei da Calavinkel. Ne approfitto per svuotarlo completamente. E attivo anche questa Deadly che ci stava. Diciamo che non è che potessi fare molto diversamente anche nel turno successivo. Lui qua va con Feng Wang e io scuppo. Perché non avevo assolutamente più niente. Non c'era assolutamente più niente che potessi fare. Ecco questo era quello che dicevo. Se viene fermato la push iniziale questi nuovi mazzi viola gli passano sopra veramente veramente forte. Ed è per questo che invocavo un pochino una versione un po' più controllosa. Comunque siamo qua a game 3. E io faccio una partenza andando secondo abbastanza strong. Lui è partito con una strong draw. Io vado con doppio Nexus che è sempre bello. Forse due strong draw ho usato. Non ho visto bene. Comunque scartare il bello di guarda è sempre buono. Io non gli metto pressione all'inizio. Lui va di labirinto. E parto con Aglovel che è uno dei migliori starter di viola ancora adesso. Anche se necessita di solo core. Lui qua con doppio Deepwalker che gli permette di rampare un sacco di core. Io lo stavo insultando tantissimo perché penso che giochi solo due Deepwalker in quel match. Fortunatamente non mi attacca. Ma si rifà usando Starblast sul mio... Adesso il mio Black Lance che comunque è sceso abbastanza presto. Quando si riesce a far scendere un Black Lance così presto ci tende ad essere una buona posizione diciamo. Anche se non è un purple control il mio. Attacco con il mio Aglovel. Pesco due carte e ne guardo una. Quindi inizio a fare un sacco di vantaggio carte. Questa partita mi pare di ricordare che andrò strassotto di nuclei ma di carte riuscirò a stare abbastanza sopra. Lui procca Beldegore, notiamo, mi pare, quando gli spacco il suo Deepwalker. E Calavink di nuovo insieme ad Islands che gli permette di rampare ulteriori core. Veramente, veramente fastidioso. Sembra di essere pernato un pochino all'inizio di 7-3 con questa partita. Io qua faccio una double deadry che gli fa un male cane e godo veramente tantissimo. Lui riesce comunque a proccare un Beldegore perché tanto ha un sacco di core, mi attacca e mi fa scendere a 4 vite. Dunque siamo 4 vite a 4 vite. Io vado con un ulteriore Rotting Swamp perché a sto punto tanto vale, visto che non faccio vantaggio di nuclei, tanto vale fare un sacco di vantaggio carte e magari riuscire a sfondarlo con delle core test che fanno molto male. O riciclare continuamente i miei spiriti attaccanti. Lui qua va con Tokiwa, carta molto forte in questo matchup. Anche perché gli si ricicla ogni volta, gli permette di rampare ogni volta, visto che io avrò sempre più carte in mano di lui. E lui riuscirà sempre a riciclarsela in caso gliela spacchi. Vado con un Leaf Wolf per difendermi. Un altro Leaf Wolf ulteriormente, in modo da non dover attivare il mio Ice settato, perché è l'unico burst comunque che gioco. E Viola diciamo che non ha tanti altri burst a disposizione, a meno che uno non giochi Star Blessed o Counter Sword, secondo me. E qua riesco a mettere in campo Mediuk. Mediuk che è fortissima, anche se in realtà controverde non è ottimale, perché comunque, sì, viene impegnata e poi non può più fare una mazza. E lì uno potrebbe dire come contromisura c'è anche suppression eventualmente, perché no? Anche se comunque dargli più punti di battaglia non è mai la scelta troppo giusta con lei. Ma rimane comunque una combo molto forte, Mediuk più suppression anche se è costosissima. Lui qua va giù di un altro Kalawinkel, un altro Island, se intanto è sceso in campo. La mia situazione è tante cose, ma non Rosea. Mi procca subito un Ice, io cerco di rimanere tre vite, perché comunque lui gioca l'Ascend. Quindi bisogna comunque giocare attorno ai doppi simboli. Faccio un altro Black Lance che mi permette di recuperare un pochino di carta in mano. E uno Shasny che diventa molto forte con Mediuk in campo. Anche se in questo momento Mediuk non è al 2, quindi lui non acquisisce Blood Curse. In ogni caso, se lui subisce danno la vita, la vita va al Void. Cosa molto fastidiosa. Ho fatto una Cortette anche. E faccio anche una Deadly Balance, sempre in Attack Step. Lui si spacca la Tokiwa e mi spacco Shasnyk. Si chiama Shasnyk, sì. Ho dei vuoti ogni tanto, ragazzi, che fanno veramente paura. Comunque, pesco una sbordellata di carte che non ha senso. Gli faccio un po' di board, ma lui con Bell, Degore Tokiwa, continua incessantemente a riciclarsi tutte le sue cose. Ma diciamo che ho fatto un plus di carte della Madonna, quindi me lo faccio anche andare bene. Lui si rifà nuovamente la board. Va di Starblessed. Tanto di Nuclein è anche da buttare via, praticamente. Third Islands, odio queste cose. Secondo l'Abirinto, quindi festa grande. Anche se, secondo me, tenersi carte in mano può essere sempre una buona strategia. Perché comunque io qua vedo che lui ha pochissime carte in mano, quindi posso giocare con un po' più di sicurezza. Se lui fosse tenuto forse più carte in mano, psicologicamente per me sarebbe stato molto più difficile cercare di mettergli pressione. Io credo che questo qua sia comunque un fattore molto importante nelle partite. E secondo me bisogna tenerne conto. Cioè non cacciare carte a caso in campo, anche se comunque ci fanno comodo le riduzioni. Ma in questo caso qui, per esempio, non gli facevano assolutamente nessuna differenza. Intanto io calo un Nucataka, attacco e lui mi fa una floodstream. Mannaggia. E sì, appunto questo discorso qua è molto importante, secondo me. Perché cambia come l'avversario ti gioca contro. Quindi diventa, diventa molto molto importante. Comunque, lui mi attacca, io mi difendo con una Thorn Prison. Fatemi poi sapere se siete d'accordo con questi miei discorsi fatti a random durante queste partite. Io qua riesco a sguarmare il terreno perché comunque siamo andati abbastanza avanti nella partita. E un po' ho rampato anch'io comunque. Vedo che lui ha pochissime carte in campo e gli metto un sacco di pressione. E riesco a vincere perché lui non vede più Ice e non ha più difese. Probabilmente si è esposto troppo il turno precedente, ma diciamo che giocare attorno a una Thorn Prison in Viola ci sta, ma fino a un certo punto. Quindi sì, questo era quanto. Viola ce la fa, ma diciamo che la versione di verde e blu contro cui ho giocato non era per niente ottimale. Quindi non so se contro una versione ottimale e giocata da un giocatore che magari ci gioca per diverso tempo avrei potuto far qualcosa. Dunque, anche per oggi era tutto. Purtroppo anche sto venerdì non è usciuto una banlist. Io stavo aspettando per fare un video sulla banlist, ma non esce. Lo ripeterò all'infinito finché non uscirà. Come dicevo, questo era tutto. Iscrivetevi al canale e lasciate un mi piace se il video vi è piaciuto. Lasciate un commento e diteci cosa ne pensate di verde e blu. Intanto c'è un gallo che canta, non so se lo sentite. E noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao! 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 Ciao!